GF VIP, Davide sulla stoccata dell'ex, avrei voluto chiedirmi che è fiera di me. La 37 puntata del Grande Fratello VIP 7, in onda lunedì 27 febbraio, è stata ricca di colpi di scena, Antonella ha preso di un atteggiamento intimo che Edoardo Donnamaria ha avuto con Nicole Murgia. Giulia Salemi ha letto dei tweet e uno di questi è stato pubblicato dall'ex di Davide Donadei, Chiara Rabbi ha lasciato intendere di avere vissuto la stessa situazione dei Donnalisi. Nel post puntata Davide ha accusato il colpo e si è sfogato con Matteo Diamante, l'ex tronista pensava che la sua ex fosse fiera di lui. Per capire lo sfogo di Davide, è bene fare un passo indietro. Durante la diretta, Giulia Salemi ha letto dei tweet per i concorrenti e tra questi è stato menzionato uno in difesa di Fiordelisi da parte di Chiara Geme, benvenuta nel Club Anto. Fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento. Salemi ha precisato che l'autrice del tweet è l'ex di Donadei. A quel punto Alfonso Signorini ha promesso di fare chiarezza nelle prossime puntate delle reality show. Mentre Davide ha cambiato espressione in volto. Al termine della diretta, Davide Donadei ha accusato il colpo e parlando in piscina con Matteo Diamante si è detto dispiaciuto per la stoccata ricevuta dalla sua ex, io avrei voluto che venisse a dirmi che è fiera di me. Inoltre ha confidato che Chiara è la persona a cui ha voluto più bene in assoluto. Ripercorrendo le tappe della precedente relazione, il giovane ha riferito di non essere mai riuscito ad andare avanti, Davide dopo la rottura con Chiara. Non è più riuscito ad intraprendere una relazione stabile. Donadei ha anche detto di avere vissuto la rottura con l'ex corteggiatrice di uomini e donne come una grandissima delusione. Infine è scoppiato in lacrime nel ripensare alla stoccata ricevuta dalla sua ex. Davide essendo recluso nella casa di Cinecittà non è al corrente di quanto sta accadendo all'esterno del programma. Nelle scorse settimane, sono emersi dettagli sulla fine della storia tra Davide e Chiara, lui avrebbe ripetutamente tradito la fidanzata. Al contrario, Donadei ha sempre dichiarato che la liaison fosse finita per la gelosia eccessiva della partner. Sui social, da tempo i telespettatori del grande fratello VIP chiedono un confronto fra i due ex. Un utente ha chiusato, bravo Davide, ora che hai avuto i tuoi 5 minuti di visibilità torna nel dimenticatoio. Un altro utente ha insinuato che Davide è dall'inizio che parla di strategie all'interno del programma. Infine c'è chi spera in un faccia a faccia tra Davide e Chiara nella prossima puntata. Cu racheta, s-o admire nave spatiale de pe Andromeda. Ăsta-i telul, îl executi ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu texturi plin de dude, dumele tante printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din tot, tot MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...